Alla fine del mese di maggio facciamo a Trento un convegno teologico che ha come titolo sequis dixerit. Può sembrare una formula un po' enigmatica e evidentemente va anche spiegata. Questa formula risale a maniera la quale alla fine del concilio di Trento nel XVI secolo venivano chiusi i decreti, cioè i documenti conciliari sequis dixerit anatema sit. Noi vogliamo vedere se il concilio di Trento con questa cultura della esclusione che ha introdotto non abbia colpito in modo particolare ancora più l'universo femminile che così quindi è trovato escluso dalla soggettualità nel campo teologico, nel campo ecclesiale, nel campo dei ministeri all'interno della chiesa eccetera. Il concilio di Trento probabilmente nei decreti che esso ha emanato e nelle dottrine che esso ha definito non è stato così escludente come invece lo è stato il tempo successivo al concilio stesso. Gli storici della chiesa e della teologia distinguono tra concilio di Trento e fenomeno del tridentinismo e cioè tutto quello che la chiesa di dopo il concilio di Trento nel suo impeto anti-riformatorio, anti-protestante ha voluto mettere in campo per affermare l'identità cattolica. Professore Altiero, quali sono i tre punti focali intorno a cui ruota il convegno teologico? Allora, innanzitutto l'inquadratura storica intendiamo dare con la conferenza iniziale del pomeriggio del mercoledì, poi è la focalizzazione di alcuni temi in chiave sistematica, cioè il tema della predicazione, il tema del ministero e il tema della vita non pubblica delle donne, quindi relegate nella clausura mentre gli uomini, i maschi agivano sull'esterno, relegati nella preghiera mentre i maschi erano destinati alla predicazione, relegati nella parte passiva nella partecipazione alla liturgia mentre i maschi erano gli attori, i sacerdoti. Il prossimo convegno teologico internazionale della Fondazione Bruno Kessler, organizzato dal Centro per le Scienze Religiose, vedrà anche la collaborazione con il coordinamento teologhe italiane. Parliamo con la professoressa Marinella Perroni che ci spiega che tipo di collaborazione. Guardi, l'idea era venuta appunto a noi del coordinamento teologo italiane e abbiamo trovato nella Fondazione Bruno Kessler, in particolare nel professore Autiero, una rispondenza immediata e entusiasta, perché è molto da fare ancora nella rilettura, nel ripensamento della grande tradizione teologica delle chiese, a partire anche dalla prospettiva, dal punto di vista delle donne o se si vuole da una prospettiva di genere. Quindi l'idea che a Trento si potesse cominciare a ripensare quello che è stato un momento forte, un momento importante, soprattutto poi per la separazione delle chiese e per la tradizione cattolica in modo tutto particolare, è un momento che ha avuto una ricaduta enorme sulla vita ecclesiale delle donne, poterlo ripensare insieme per vedere che cosa ha comportato e che cosa comporta oggi rileggere quella storia e quel momento, quegli anatemi, quell'assenza di donne, anche quel silenzio sulle donne. Speriamo di poter cominciare semplicemente a portare alla luce. Con la conferenza finale vogliamo dire che alcuni temi nella vita della chiesa non sono mai del tutto esauriti. La chiesa deve avere la capacità, la forza, il coraggio e anche la responsabilità di rimettere sempre in questione le tematiche che le stanno a cuore per dare le risposte adatte di volta in volta all'interrogazione di sempre.